Ma lo sapevi che in Lombardia c'è un posto dove puoi fare amicizia con gli alpaca? Qui potrai non solo coccolarli e fare amicizia, ma anche portarli a passeggio. Sono animali veramente docili e carini, vi innamorerete subito di loro. Oltre agli alpaca ci sono anche dei lama. Riuscite a distinguerli? Questo posto si chiama Nira Resort e si trova in Valtellina, precisamente a Val di Dentro. Con circa tre ore di macchine da Milano sarete arrivati. Cosa aspetti? Tagga qualcuno che ti deve portare qui e seguimi!